L'approccio di Varsoia è un approccio che nasce da 20 anni di attenzione alla salute del consumatore. Ciò che forse è cambiato è la quantità in Italia di consumatori che oggi sono più attenti alle dinamiche della salute e a uno stile di vita salutare. Come dicevo prima, nell'incontro quasi il 40% degli italiani hanno deciso di avere uno stile alimentare più sobrio e più attento alla salute per diversi motivi, legati anche a valori che vanno ben oltre la semplice alimentazione. Per cui Varsoia in questo è molto attento e cerca di contattare e recepire questi bisogni del consumatore e anche del consumatore 3.0. L'evento di stasera, colgo spunto da qualcosa che prima leggevo, è sicuramente un momento interessante perché permette di porsi innanzitutto delle domande anche sul proprio lavoro e scambiare anche delle impressioni e delle connessioni con altre realtà e sicuramente questo può essere utile perché penso, come dicevo prima, che le persone possano uscire da qua con non tanto delle risposte ma quanto più con delle domande da porsi su il proprio consumatore o il proprio cliente e come questo eventualmente appunto si sia evoluto e quanto loro si siano evoluti rispetto ai bisogni che possono essere cambiati.